quindi juventus cagliari non lo so andiamo a giocare la partita ottima notizia grande passo in avanti goditi questo momento vabbè ho letto il tuo posto su premio sottoscrivo in pieno c'è sempre spazio per migliorare ovviamente abbiamo l'allenamento siamo in casa contro il cagliari il cagliari cerca di portarsi in attacco ma viene subito fermato un lupo alberto troppo piccolo cazzo ci sono al centro ci posso provare da qui troppo al lato ci prova da qui trovo il difensore lo vedo ci prova un tiro bruttissimo di nuovo calcio d'angolo cagliari provo a metterla in mezzo di testa tiro sballato il cartellino giallo ci sta io vediamo se se gliela riesco a crossare in mezzo non ci arrivano il cagliari veramente sta tenendo lo 0 a 0 non ci voglio credere non ci voglio credere non è possibile vediamo se con questo cross riusciamo a fare qualcosa spazza via palla nostra palla nostra attenzione ci prova adesso mi faccio rubare palla e poi la recupero però quindi errore rimediato attenzione al cagliari prova ad attaccare però la difesa ovviamente recupera sempre e comunque ci devo provare da qui non mi lascia tirare non mi lascia tirare mi ruba palla non capisco perché mi abbia passato la palla me l'importante recuperare non facciamo errore perché stiamo facendo una partita perfetta bellissimo questa azione ci posso provare sul primo palla del portiere ovviamente ho sbagliato sbagliato sbagliati che ha sbagliato chi mi ha passato la palla in quella circostanza però la recupero attenzione incredibile ci posso trovare due minuti di recupero adesso ne rimane uno vediamo se il cagliari riesce a farci male 47esimo la partita dovrebbe essere finita a questo punto l'arbitro lascerà finire questa azione è Ciao